Buongiorno a tutti, siamo in collegamento con l'onorevole Alessandra Moretti del Partito Democratico. Lei è stata recentemente rieletta in Europa. Lei è al Parlamento europeo dal 2019, anzi per la verità ci era entrata già nel 2014, poi in relazione alla sua candidatura alle regionali del Veneto si era dimessa e aveva poi intrapreso il lavoro politico nella sua regione, cioè il Veneto, adesso comunque è ritornata, anzi è stata confermata al Parlamento europeo. Il suo impegno europeo è assolutamente fuori discussione perché lei dal 2019 abita con i suoi figli anche a Bruxelles, quindi in modo da poter essere in loco a lavorare e non fare la spola fra la sua città, fra il suo territorio e la sede dove l'Europa lavora, quindi Bruxelles. Io direi con lei potremmo toccare subito un primo problema che certamente sta molto a cuore a tutti coloro che lavorano dentro il nostro sistema scolastico. Si parla ovviamente di PNRR, ci sono alle volte anche polemiche su questo, c'è chi dice che i soldi non si stanno spendendo bene, c'è chi dice che ci sono forti ritardi, lei che conosce il problema anche dall'interno e dal versante europeo, cosa ci può dire su questo? Come siamo messi? Questi soldi si stanno spendendo, si stanno spendendo bene, riusciremo a mantenere fede agli impegni che abbiamo preso con l'Europa? Allora innanzitutto buongiorno e grazie per questa opportunità che mi date di confrontarmi con voi da Bruxelles dove appunto lei ben ha ricordato, io vivo ormai da cinque anni e mi appresto ad affrontare la prossima legislatura 2024-2029. In relazione ai fondi del PNRR innanzitutto bisogna fare una premessa, sono fondi europei che l'Italia ha ricevuto in maniera massiccia, l'Italia è stato il primo beneficiario dei fondi del Next Generation EU, cioè il primo debito comune che l'Europa fa nel 2021 a seguito della pandemia. 200 miliardi che appunto vanno al nostro paese in quanto paese colpito in maniera molto dura dal Covid-19. Ora noi siamo abbastanza preoccupati sul fatto che questi fondi che come lei sa devono essere spesi entro il duemilai e ventisei vengano effettivamente messi eh a terra attraverso delle diciamo dei progetti, attraverso dei cronoprogrammi molto precisi. L'Europa non stanzia fondi a pioggia, l'Europa ha stanziato dei fondi in base a delle linee di investimento che riguardano le infrastrutture, che riguardano la digitalizzazione, che riguardano la lotta al cambiamento climatico e riguardano anche la formazione e quindi anche un massiccio investimento pari circa un miliardo e mezzo proprio sulle materie STEM per esempio, sull'investimento delle materie STEM. Ora ci sono dei ritardi importanti anche eh sulla formazione e la scuola sono stati sbloccati ehm diciamo a pochi mesi eh alcune eh diciamo alcuni miliardi proprio per diciamo l'orientamento delle studentesse e degli studenti verso le materie STEM e il digitale ehm io eh non sono particolarmente preoccupata, penso che ecco eh alla fine questi fondi saranno utilizzati al meglio, purtroppo i ritardi maggiori eh si verificano in quanto c'è un'assenza di coordinamento e soprattutto di aiuto nei confronti degli enti locali che poi sono regioni e comuni che sono diciamo le istituzioni più vicine al territorio che devono essere coinvolte per cercare appunto poi di mettere a terra queste 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 risorse così importanti. Mi auguro che siano comunque spesi al meglio eh non tanto per fare no o rifare una la piazza del paese ma per fare promuovere investimenti importanti sulla tecnologia, sul digitale, sull'infrastrutturazione, sulla messa in sicurezza anche del nostro territorio. Abbiamo visto come l'Italia eh ogni anno viva delle tragedie dovute ad alluvioni, terremoti, cambiamenti climatici, qui effetti diciamo più ehm eh diciamo eh estremi no? Danneggiano eh parte anche del della produttività, della cultura, della dell'agricoltura insomma ecco quindi io penso insomma che ci sarà ecco da parte nostra ovviamente c'è una una vigilanza costante su questo speriamo che il governo riesca ad aiutare gli enti locali ecco a realizzare al meglio e perché sono anche fondi così importanti che non possono essere trascurati insomma. Sento onorevole dall'Europa che cosa può fare per aiutare il nostro paese ma soprattutto per aiutare il nostro sistema scolastico a uscire un po' dalle secche perché insomma non è che il nostro sistema scolastico proprio viva momenti particolarmente felici eh quindi cosa può fare l'Europa? Ma guardi l'Europa non ha una competenza diretta sui sistemi di istruzione e di formazione universitari eh l'Europa lei sa eh diciamo agisce attraverso due eh diciamo provvedimenti che sono i regolamenti e sono le direttive. I regolamenti sono degli atti diciamo legislativi direttamente applicabili agli stati membri mentre la direttiva eh è un atto che richiede un eh recepimento da parte degli stati membri. Noi ovviamente possiamo dare attraverso le direttive anche in materia scolastica dei suggerimenti, possiamo dare degli orientamenti, possiamo promuovere delle linee di indirizzo ehm e quindi questo è molto importante oppure possiamo promuovere anche forti investimenti per esempio ci sono dei canali di investimenti diretti e verso la cultura e verso la formazione che sono molto utilizzati anche dagli istituti scolastici per promuovere per esempio dei corsi di aggiornamento sia per i docenti ma anche per delle esperienze oltre ovviamente al progetto Erasmus che è diciamo il progetto più grande, più imponente anche da un punto di vista delle risorse che l'Europa mette in campo per favorire la cultura europea da parte dei nostri dei nostri ragazzi. Poi lei sa bene che come deputati europei noi siamo a disposizione degli istituti scolastici e dei dei dirigenti scolastici per promuovere all'interno delle scuole anche delle visite quindi non so eh le faccio un esempio io spesso vado eh nelle nelle scuole a partire dalla terza superiore alla quinta per far conoscere agli studenti le istituzioni europee e poi per invitare le classi degli studenti a venire in visita al Parlamento europeo a Bruxelles o a Strasburgo proprio per appassionare i giovani e far conoscere loro quanto l'Europa può fare diciamo e sta facendo perché vede l'Europa condiziona eh l'ottanta per cento delle scelte che i governi nazionali promuovono cioè tutte le decisioni che vengono prese a livello locale sono direttamente collegate a scelte che l'Europa ha preso e eh diciamo la gran parte eh dei eh delle realizzazioni con cui gli enti locali le regioni eh promuovono ristrutturazioni di infrastrutture realizzazioni di scuole eccetera ehm hanno derivazione europea cioè sono i fondi europei che sostengono anche questo tipo di iniziativa quindi per noi è fondamentale che i giovani abbiano la consapevolezza di quanto l'Europa sta facendo pensate a quanto l'Europa ha fatto per uscire dal covid per eh promuovere la distribuzione dei vaccini per vaccinare più dell'ottanta per cento dei cittadini europei ma per distribuire miliardi di dosi anche ai paesi sottosviluppati ecco io credo che sia molto importante far crescere la cultura nei ragazzi anche per sconfiggere quelle forme di estensionismo dal voto che purtroppo eh diciamo determinano eh determinano quella quello scollamento tra politica e poi cittadinanza senta onorevole eh a questo proposito io le sottopongo un problema e perché vorrei capire se su questo eh l'Europa può fare qualcosa proprio per stimolare anche la eh produzione normativa eh nel nostro paese lei sa che uno dei temi che eh negli ultimi mesi è stato molto dibattuto nelle nostre scuole è stato quello della presenza di eh ragazzi stranieri eh c'è chi parla di mettere un tetto anzi per la verità un tetto c'è già perché già da qualche anno c'è eh ci sono delle norme ministeriali che prevedono che non si possa superare il trenta per cento di alunni stranieri in eh ciascuna classe eh c'è chi dice che questo tetto va aumentato che va diminuito insomma il problema è molto eh molto ampio e molto complesso soprattutto perché eh ci sono realtà in cui eh i ragazzi stranieri presenti nella città sono già comunque molto al di sopra di questi tetti del trenta per cento ci sono città in cui eh i ragazzi stranieri sono settanta ottanta per cento della della popolazione e quindi il problema è davvero molto complicato. Lei come la vede? Che cosa pensa che si possa fare? Cosa si sta facendo negli altri paesi e cosa l'Europa potrebbe fare per aiutarci a uscire da questa situazione? Beh innanzitutto l'Europa promuove i valori della multiculturalità e ovviamente l'Europa promuove eh i valori dell'integrazione eh culturale tra popoli e tra culture diverse. È chiaro che ehm ci sono diverse esperienze nei diversi paesi europei, ci sono paesi europei più evoluti dove l'integrazione straniera si è avviata ormai da eh decenni e decenni e quindi è una un'evoluzione che si è maturata e radicata nelle nelle società mentre in Italia pare essere ancora un problema perché una parte della politica strilla urla contro diciamo l'invasione quindi di fatto promuove l'idea eh di una di una divisione di una netta separazione tra chi nasce in Italia ed è italiano e chi nasce magari in Italia da genitori stranieri e che non ha questo diritto ad essere diciamo eh riconosciuto italiano ehm dall'inizio no? E quindi il tema dello YouSoli per esempio che è un tema di scarsa prospettiva cioè se noi avessimo come dire approvatelo YouSoli quando eh eravamo noi al governo come centrosinistra oggi eh non determineremmo nei bambini che nascono in Italia da genitori stranieri quella confusione quel senso anche di rifiuto rispetto no al eh al paese e dove loro sono nati che vorrebbero diciamo essere riconosciuti sin da subito invece c'è questa questa distanza questa questa questo divario quindi questo queste sono scelte politiche ovviamente noi ehm eh io ricordo bene quando facevo l'assessore alla scuola a Vicenza una delle cose più importanti è che noi dobbiamo evitare totalmente la creazione di istituti ghetto o di classi ghetto io penso che mh innanzitutto vada eh distinta i bambini nati in Italia che sono diciamo eh di seconda generazione quindi sono di fatto italiani perché nascono nel nostro paese parlano sono inseriti nella scuola e i bambini invece che provengono da altri paesi che vengono inseriti diciamo nel nelle classi che hanno problemi di lingua problemi di cultura c'è una differenza sostanziale quindi io credo che noi dobbiamo mettere le scuole e gli insegnanti nelle migliori condizioni di poter integrare questi ragazzini che non si sentano mai eh diciamo ghettizzati isolati ma che si sentano parte di un gruppo e di una comunità e che abbiano l'opportunità e gli strumenti di poter crescere eh diciamo adeguatamente senza ovviamente traumi quindi questo è fondamentale. L'Europa ovviamente può dare delle linee di indirizzo eh le da già nel senso che noi già promuoviamo eh delle politiche contro ogni forma di discriminazione culturale. L'Europa potrebbe però ecco favorire per esempio le normative sullo ius soli cioè potrebbe favorire un principio per cui i bambini nati eh diciamo nei paesi europei da genitori stranieri sono bambini europei, cittadinanza europea piena che da loro tutti i diritti sin dall'inizio e non li fa sentire come dire diciamo prima rifiutati dalla dalla società. Quindi io credo che la cosa fondamentale sia quella che noi diciamo sempre no? Questa accoglienza diffusa, questa integrazione dolce, questa questa questo accompagnare questi bambini e le loro famiglie. Ecco la cosa che secondo me deve fare la scuola ovviamente con supporti e risorse adeguate che spesso mancano purtroppo. Quello che deve fare la scuola è integrare nella comunità non soltanto i bambini ma anche le loro famiglie, in particolare le mamme. Le mamme straniere eh diciamo svolgono un ruolo fondamentale ma spesso per cultura sono più isolate eh rispetto eh ad altri componenti eh della famiglia come per esempio il padre o i figli maschi e quindi noi dobbiamo aiutare le donne e le mamme straniere ad essere pienamente emancipate nella società, a trovarsi un lavoro, ad essere libere anche economicamente, indipendenti e questo facilita moltissimo eh anche l'inserimento dei bambini. La scuola è il luogo migliore per fare questo perché attraverso diciamo la cultura eh della mescolamento e dell'integrazione vera attraverso il cibo, attraverso la conoscenza della lingua ma anche dei balli, delle tradizioni, delle culture ecco si possono creare queste queste iterazioni molto molto utili. Senta onorevole eh questi giovani eh questi eh ragazzi stranieri che poi molto spesso stranieri non sono perché sono nati in Italia poi arrivano a diciotto-vent'anni vanno ai campionati europei e salgono sul podio. È stato abbastanza come dire impressionante per un certo aspetto è entusiasmante eh da un altro punto di vista vedere che agli ultimi campionati europei eh molti ragazzi di colore diciamo così sono saliti sul podio e qualcuno di loro ha anche cantato il nostro inno nazionale. Cosa ne pensa? Beh è una manifestazione diciamo meravigliosa del processo di integrazione culturale tra eh etnie eh diverse. Io credo che la bellezza di questi e di queste vittorie sta nel fatto che questi ragazzi si sentono italiani eh a pieno titolo, cantano l'inno nazionale perché portano la bandiera italiana sulle spalle e quindi io credo che insegnino loro molto di più di quanto alcuni politici fanno eh credo che ormai il colore della pelle su cui purtroppo ancora ci sono tante forme di razzismo e di discriminazione non possiamo negarlo eh però eh ecco è attraverso lo sport che forse noi possiamo dare dei messaggi molto forti e molto positivi tra l'altro ad una generazione che è quella dei miei figli che appunto è molto lontana eh da queste divisioni, da queste distinzioni. I giovani oggi sono abituati a relazionarsi ehm e nello sport in particolare con ragazzi che provengono magari da originariamente da etnie diverse dall'Africa, dai paesi asiatici ma che però essendo nati in Italia sono sono italiani o lo sono diventati diciamo nel processo, nel percorso della cittadinanza. Però eh diciamo che lo sport è la manifestazione più alta probabilmente dell'integrazione culturale e penso che dallo sport molti politici dovrebbero imparare qualcosa. Senta onorevole Moretti io con lei vorrei concludere se me lo permette con una battuta eh che battuta poi non lo è neanche tanto perché lei si occupa anche eh in Europa proprio di pari opportunità. Lei qualche anno fa era diventata famosa, era diventata nota per aver eh detto ma eh le donne che fanno politica devono essere ovviamente brave a fare politica ma devono essere anche gradevoli. Era stata molto criticata per questa battuta. Eh lei oggi questa battuta la riproporrebbe, la rifarebbe allo stesso modo? Ma guardi il concetto lo ribadisco, lo rivendico, l'avrei espresso meglio. Eh si tratta di una battuta che io feci dieci anni fa quindi è passato molto tempo. Eh ma ovviamente eh è rimasta. Eh io rivendico il fatto che il femminismo e il femminile non sono due eh concetti eh agli antipodi ma devono e possono andare insieme. Una donna deve portare avanti diciamo delle battaglie femministe per tutte le donne ehm senza perdere però la propria femminilità, il proprio diciamo il proprio lato femminile. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi eh in tutti i luoghi anche di responsabilità e di potere non dobbiamo perdere mai la coscienza che eh essere donna significa fare politica in maniera diversa. Farlo con le doti che ha una donna che sono quelli dell'ascolto, della capacità di mediare, di creare ponti e non divisioni, di essere meno prepotenti ma di riuscire a creare diciamo delle condizioni, le condizioni migliori per riuscire anche a portare avanti e a ottenere dei risultati importanti. Io penso che guardi l'ho detto, l'ho scritto in un libro che recentemente ho scritto e pubblicato. L'ho scritto eh dicendo che eh ci sono centosettantuno conflitti nel mondo, due ci angosciano particolarmente che sono il conflitto medio orientale e quello ucraino. Io sono convinta che se ehm alla testa del mondo e dei popoli ci fossero più donne rispetto agli uomini probabilmente ci sarebbero anche meno guerre. Perché le donne guardano e sanno guardare al futuro eh che sono i figli, che sono i nipoti, che sono le nuove generazioni. E quindi io penso che dobbiamo sempre rivendicare e ricordarci chi siamo eh con un passaggio di testimonianza tra chi è venuta prima di noi e noi e quelle che verranno dopo. Io eh quando erano alla Camera dei Deputati portai avanti il provvedimento, la legge sul divorzio breve. Ecco lo dico sempre non avrei potuto portare avanti quella legge sul divorzio breve se prima di me non ci fossero state le donne che affermarono il diritto al divorzio. Ecco io credo che la nostra forza sia quella di essere femministe. Oggi è un valore che dobbiamo come dire rivendicare perché sono tante le battaglie che dobbiamo portare avanti per tutte e nello stesso tempo farlo però col nostro modo, col nostro stile che è quello appunto di essere di essere donne. Quindi di imporlo in maniera diversa rispetto agli uomini. Benissimo, noi ringraziamo davvero di cuore l'onorevole Alessandra Moretti, le auguriamo buon lavoro, ricordiamo che il sedici luglio se non mi sbaglio eh sarete ufficialmente investite, investiti come nuovi eh euro parlamentari, lei per la verità euro parlamentare lo è già perché ricordiamolo lei eh in questi giorni è stata riconfermata al Parlamento europeo perché lei ormai è parlamentare di vecchia data pur essendo lei molto giovane e questo ovviamente non può che farle onore. Grazie. Grazie. Grazie a tutti